Dicono che sia praticamente impossibile premere tra lo spazio del più e del cuore. Provaci e fammi sapere nei commenti se ci sei riuscito. A parte che l'altro si chiama New York, caro mio bello, Anzela. Io chiedevo degli avversari alla mia altezza, ma a me questo lo buttiamo in una seconda. E voi parlate molto bene, parole significative. Quindi via, curva. Sono solo campanile per un'unità, tutti i quali mi sentite. E quindi è un 2.2, come dicevamo. Nessuno deve andare al cambio, sono già detto tutti. E attenzione, questo lo fate anche voi in piscina, ma qui non c'è acqua. Attenzione però, New York non riesce a girare sicuramente. Ok, ci siamo, ci siamo. Schiaffi. E adesso scendono tutte e due. Non so di cosa stanno accortando. Un'altra gara di post. Un'altra gara di post. Io non sono sicura di quello che stanno accortando. E adesso si prendono tutti. Un'altra gara di post. È un po' domagio questo. Prova di forza i quattro, signori. Un'altra gara di post. Che succede, chiamano pubblico. Voglio novolane. Sulla un solito in noi. Grazie! un altro colpo sulla schiena di Berna vai e applaudite adesso Wilber non era meglio ma viene colpito anche lui che ammazza col tiro spinato fa veramente molto male viene bloccata colpo e attenzione che male che male non posso neanche e attenzione musica la matta schiaffo sul sedere ma quando vale sono chiama entità dinamiche grazie a tutti